Che stai succhi a Giuseppe? O lecca lecca, o ciupa ciupa, o bombolò Ma quant'anni c'ha Giuseppe? Sembro lo... lo sbrinosauro Lo sbrinosauro? Lo sbrinosauro Perché sbrino? Stiamo facendo passione Non direi Giuseppe Tanto vuoi stare con il cervello Lo sbrinosauro Il dinosauro che ha il potere di togliere la brina E come si chiama il dinosauro che è in grado di togliere la sbr... Lo sburrosauro Giocate Giocate Oddio O mai la parte di prima me la metto come alert su Twitch Ma guarda Quella dello bombolò Oh comunque vedi che lo sfondo che c'hai dietro è veramente bello Giuseppe Con le piantine Sembra proprio la giungla dei sbrinosauri Oddio Oddio Occhio che esce lo sbrinosauro che... Oddio ragazzi Allora E tutto questo Gianfranco non esce ancora Ma l'hai visto Ma l'hai visto? Che Lo sburrosauro Ma basta E' una volta serio Oddio No perché ti hai risolto pure le cuffie E hai detto che cazzo è successo? Un topo La gag Mannaggia Giuseppe E' terribile quando Però Però sei un po' drugato Ma il fatto è che Vedi sono le quattro Quindi tu alle quattro sei caldo Arrivi alla sera Che sono le nove E bro che chiaramente Ti sei venito le forze Perché non è che A meno che non sei come Blazzi Che ti fai di qualche sostanza strana Broschi stamattina Mi sono fatto No Ma è in vena però Leggi attentamente il foglio illustrativo Se sei uno sburrosauro No Giuseppe non devi staccare sempre No Giuseppe Giuseppe per favore Mette là per favore Oddio Giuseppe come lo trovo sotto casa con la spanga eh Eh stacca sempre Mannaggia la miseria Non staccare ogni volta Ma questa qualità audio Gianvrad Do stai? Nella grotta dello sburrosauro Ma non lo so perché ma Aspetta ma da dove sto Ma da dove cazzo mi state sentendo effettivamente Oddio No raga non ce la faccio Sto morendo Direttamente dal bagno No seriamente da dove cazzo mi state sentendo? Eh non lo so Gianfra Però se sentiamo mi sa il gain alto Forse ti sei sminchiato Con l'aggiornamento di windows bro Oh come sentite? Troppo basso Prova prova Eh un po' meglio Adesso un po' meglio Beh 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 Vedi Volevo la tosse un po' più crescita Però vabbè Parla Gianfranco Non vuoi mettere sta condivisione Gianfranco Oh Si è tolto da su No però Giuseppe non può fare stasera che si leva da sola ogni volta No ma perché ti si blocca No Un momento Sono in difficoltà No Allora fai una cosa Giuseppe Togli il blocco schermo Vattene via Togliti Si Nini Toglilo veramente Toglilo Ma aspetta E come si toglie lo sburro schermo? Nelle impostazioni Fai blocco schermo Leva Fai mai Poi dopo stasera lo rimetti Dopo 10 secondi Non ti spegnerà mai più Tipo Sarò obbligato per sempre Si si Non ti spegnerà mai più Quando si scarica la batteria Però domani lo riattiva No no Quando si scarica la batteria Rimane con lo schermo acceso Perché ha tolto il blocco Giuseppe Schermata di blocco? Oh ma hai visto Giuseppe la nuova missione su Legends? Fatto? Sono già estremamente stupido oggi Aspetta un attimo Eeeh Allora Un momento Sto cercando Queste impostazioni un po' Un po' nascosto Ma intanto sblocca sto telefono Ma perché non si vede più? Ma è già sbloccato A me si sta imballando tutto Io c'ho E' perché forse c'ho solo 50 pagine aperte di sottofondo Che mi farono preferiti Ah sta proprio fuori Si ha mattito oggi eh Ragazzi oggi Oggi è incontenibile proprio Oggi è quasi un peccato non lo registrare Ragazzi oggi Con un Joseph così caldo Così caliente Eccolo Lo vedi? Madonna Gianfra Come si biede Comunque Gianfra te lo devo dire Con gli occhiali mi sembri proprio un Clark Kent Grazie grazie Giuseppe ce la fai? Gianfra non aveva previsto di correre in palestra Gianfra This time It's not your time Io tra l'altro sai che voglio provare Voglio provare a fare una summon E vede come si vede Con il fatto che ho messo le cam centrali Eeeh Tanto c'ho dei ticket La potevi usare Minchia di questi ce ne ho 100 No 100 troppo Non me ne vado a spenderne 100 Ma perché non mi attivi un attimo la condivisione così mi fai mettere tutto a posto? Perché fin quando non me la attivi non posso mettere manco Mirko a posto Che cazzo stai facendo? Ma cosa sta facendo di la? Buonasera Guarda se mi sta a pigliare per il culo guarda Ma è sicuro Gianfra Ma non risponde? Cioè ti pare possibile Io ragazzi vi dico che ho fatto per arrivare al 9200 Chrome Crystal E' scioppato ancora E' scioppato tutto fra Giuseppe evita di muoverti sul menu quando c'è la condivisione Perché a volte ti si vede fra Prima il video sotto che avevi messo si vedeva? Eh si Come è possibile? E' così Ma anche mentre mi tecavo? Nooo No vabbè la camera non si vedeva No ma a parte gli scherzi Hai visto la capocchia? Hai visto il capocchiasauro? No frago non è Questo però si impalla Mi fate vedere un attimo la vostra condivisione Cioè Giuseppe allora la tua schermata da dove prendi i nostri gameplay è questa qui Sto parlando di capocchia Dai vedi un attimo Cazzo dimmi Questa qua per cazzo Che cazzo è? No, questo è il mio Mirko, ma non fa uscire questa roba No, no, oddio Ma cos'è questo gioco? Bro, ma questa roba Se poco poco parte in live Questa è banna assicurata Bro, installa ora, scusate, ma questa installa ora But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, laugh all the time